E ci basta semplicemente visualizzare questo, ci basta percepire la sua azione, la luce della sua azione. Nelle eventi, nelle organi, nel corpo, nelle cellule possiamo percepire la sua luce immediatamente e questa luce si difondeva verso l'infinito. Io vizualizzare la sua luce, la sua luce si diffusa come se fosse una densa acqua di luce, come acqua, a invaso tutta la pianeta illuminandolo. Io vizualizzare la sua luce, 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 la sua luce, la sua luce, la sua luce. E' un'attività molto migliore tecnologica Quando lo facciamo sempre per tutti E la materia di vita e la vita Raspostandola per tutti I sviluppatori anche così Ottimo Questa è un'azione molto corretta Tecnologicamente molto corretta Quando voi realizzate un'azione di gestione Immediatamente per tutti Quindi fin da subito Quando la fate per tutti Ed è ciò che anche il creatore fa costantemente Quindi quando fa qualcosa Anche lui lo fa per sempre Sempre per tutti Ciò che è stato dal creatore Esiste sempre, è sempre funzionale Lavora sempre, funziona sempre Noi dobbiamo semplicemente sviluppare questa visione Quindi scoprirlo, rivelarlo Quando siamo in questa gestione Anche il nostro sguardo Quindi apre questa norma Sviluppa questa norma Che va verso l'eternità E non rimane nient'altro Cioè ciò In altre parole Ciò che non corrisponde alla norma Non rimane Questa si chiama Questa si chiama la chirurgianza controllante Quando il nostro sguardo Normalizza subito tutto E questo Questo si chiama il livello della semplicità dinamica Perché Da un lato È molto semplice Farlo È molto facile Farlo Ma dall'altro Questa facilità Questa semplicità È dinamica А на самом деле Вот Такое простое действие Открывать то Что уже есть Это максимальный Уровень эффективности В вашем управлении In realtà Questa si chiama la chirurgia Scoprir Aprire ciò che esiste già È il livello massimo Nella vostra gestione Vedere a God 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 Большая эффективность В управлении È necessario Vedere a God 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 Quindi guardare Nella sua luce Fare la gestione Come lui lo fa Quindi E questo Questo aspetto È molto efficace Nella gestione E вот Gregorio Petrovic Открыl нам Этот свет Fundamentальный Svet Истинной Realности Своим учением Gregorio Petrovic Самовоссоздание Бога Absolutно Ma все Рассказывает Lui ci racconta Pog реально Спастись Che ogni persona Questo è un sistema Che mostra Proprio la via Di sviluppo eterno Quando мы работаем Решаем Какую-то задачу Мы именно В этой идеологии Работаем Для чего? Это не для того Чтобы поправить здоровье На год или два А именно Для вечного Счастливого Развития Когда работаем Мы работаем Пropriо Пropriо All'interno Di Questa Идеология Perché Non Facciamo Лавор Пор Per Милор Рассказывает La salute Per Il Просimo Anno Per I Prossimi Due Anni Ma Lo Facciamo Proprio Per Assicurarlo Per Этернità Cioè Questa È L'ideologia Di Звилuppo Eterno Именно Это Работает Вечная Жизнь Вечное Развитие Бесконечное Будущее Именно Это Основные Такие Основополагающие Системы Которые Мы В Optике Обязательно Вявляем И На Этой Платформе Видеем И Проблемы И Quindi Видимо Che Пropriо Questo Лавора Quindi La Вита Этерна Лос Этерна Феличе И Футуру Инфинтamente Феличе И Cerchем Di Lavorare Пropriо In Quest Оттика Так Как Действовал Создатель Дает Возможность Восстановить Например Утраченные Органы Пropriо Agire Cosи Как А Агиту Которые Это Ci Дает Possibilità Ди Рикостру 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 Органы Римосси Даннеги 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 Агут